Continua il passaggio al digitale di nuova generazione e quest'oggi siamo sul monte di Portofino, la zona di Recco e la costa orientale della città di Genova e poi una prima parte del Tiguglio. Non tutto il Tiguglio, qualcuno ci ha segnalato che comincia a vedere per esempio alcune zone di Sestre Levante, il nostro segnale sul canale 12 e sul canale 85, saranno questi i numeri sui quali tra breve in tutta la Liguria si riceverà Telepace. È una fase di passaggio quindi occorre attendere, domani ci sarà l'accensione dell'entroterra, del nostro entroterra e dopo domani, giovedì, ci sarà l'accensione del Golfo del Tiguglio anche sulla costa. Come vi dicevo occorre aspettare, progressivamente quando non ricevete più il nostro segnale fate la risintonizzazione. Comincio ad introdurre un argomento del quale parleremo nei giorni prossimi che è l'HBB TV. È uno standard di trasmissione per chi ha un televisore di nuova generazione e potrà continuare a ricevere anche i canali 3, 4 e Telepace News che col nuovo digitale non sono ricevibili. Intanto il 12 e l'85 sono ricevibili ormai in gran parte della nostra regione ma dai giorni prossimi vi dirò come si fa anche a continuare a ricevere gli altri.